Bella raga, nuova puntata, siamo qua, dobbiamo presentare una serie di cose che mi sono portato adesso dall'America, volevo farvi vedere, sono estremamente contento dell'esperienza che è una figata, una figata assoluta e ho avuto delle opportunità straordinarie di... Scusa, già la gente mi dice sempre che t'assomi, cioè io sono contentissimo, per me è un onore incredibile, però se così confondiamo secondo me ancora, no, però se vuoi guarda, per me, però puoi andare tu, va bene, va bene, grazie, se non possiamo, cioè, se non facciamo entrare tutti, tutti, tutti però, ragazzi, che cazzo, dai, iniziamo.